Domani saranno finalmente svelati i tre gironi di Lega Pro che riguardano da vicino Piacenza e Propiacenza. Stando alle indiscrezioni si profila una suddivisione verticale delle 60 squadre che prenderanno parte ai prossimi campionati, con il solo girone C che non subirà variazioni di rilievo. Nel girone A, quello delle Piacentine, potrebbero non esserci Parma e Venezia, spedite nel raggruppamento del centro-nord. Si salva invece il derby con la Cremonese e si profila una trasferta ad Olbia per Biancorossi e Rossoneri. La probabile composizione del gruppo A prevede, oltre a Piacenza e Pro, anche Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Cremonese, Giana, Livorno, Lucchese, Lupa Roma, Monza Ocavese, Olbia, Pistoiese, Pontedera, Prato, Renate, Siena, Tuttocuoio e Viterbese. Sempre domani dovrebbe arrivare l'ok della Federazione per il ripescaggio in Serie D del Fiorenzuola.